Si prova una grande soddisfazione, una grande emozione perché questo era un appuntamento che veniva rimandato da anni e anni e anni e insomma finalmente ora ce l'abbiamo fatto. Da parte nostra abbiamo dato un grande contributo, nel senso che era il 12 agosto quando è venuta fuori per amicizie comuni con Michael Estellini la possibilità di ospitare questa mostra a Livorno e da allora abbiamo fatto di tutto per mettere le gambe a questo progetto e devo dire a tempo record ma ce l'abbiamo fatta.